Bollette pazze del servizio idrico sono state recapitate nei giorni scorsi ai contribuenti mascalesi, che lamentano fatture sorbitanti. Impazzano infatti sui social le foto e le lamentele dei mascalesi sull'arrivo di queste bollette idriche, che superano abbondantemente anche il migliaio di euro. Sull'argomento, il Comune di Mascali ha disposto in autotutela la sospensione dei termini di pagamento fino al prossimo 30 marzo e, come chiarisce il Sindaco di Maschere Luigi Messina, allo scopo di verificare il sistema di calcolo delle aliquote fissate dalla precedente amministrazione, ho convocato per la prossima settimana un tavolo tecnico con la società che gestisce operativamente il servizio, per verificare quali parametri esattamente hanno determinato importi notevolmente differenti rispetto al passato. A breve, conclude Messina, saranno date apposite comunicazioni ai cittadini attraverso il sito istituzionale dell'ente comunale.